Ciao, sono Tunde PXWary e sono uno dei due fondatori di Matcha. Matcha nasce nel 2016. L'idea che c'è dietro Matcha nasce da una lunga esperienza nel mondo della ristorazione perché io e il mio socio Antonio Scugnamiglio stiamo nella ristorazione, nel food retail da quasi 20 anni ormai. Che cosa è questo Matcha Mode? Proprio è una modalità, una modalità di essere e di vivere ed è soprattutto una modalità di comunicare ed è una modalità di relazione. Cerchiamo tutti sempre di essere molto positivi, attenti al dettaglio però attenti anche al quadro d'insieme. Noi abbiamo applicato questo concetto di Instagrammabilità tutto quello che abbiamo pensato sia in termini di piatti che interior design doveva passare il filtro Instagram, quindi doveva essere Instagrammabile. Quindi sicuramente di ottima qualità ma anche di buona resa fotografica. Perché in Matcha noi serviamo Healthy Food? Non solo per una preferenza professionale o personale ma anche perché anche da un punto di vista di business crediamo fermamente che l'Health Food sia il cibo del futuro. Quello che vorrei sottolineare è che quello con Illimiti è proprio una partnership. Per noi era molto importante trovare appunto un partner, quindi non un semplice finanziatore magari non particolarmente attento alle proprie scelte. Quindi in Illimiti noi abbiamo trovato un partner così. C'è stato un bellissimo dialogo, c'è stato un bellissimo approccio, è una fase di valutazione molto attenta ma anche molto smart, molto veloce. Quindi abbiamo visto subito che condividiamo lo stesso approccio verso il business e questo è fondamentale perché non sempre è sufficiente concludere un'operazione finanziaria e è più importante a nostro avviso costruire realmente un rapporto di collaborazione lungimirante. Quindi riusciamo a raggiungere la quota di 50 store matcha aperti già entro la fine del prossimo anno. Vivere il cambiamento dall'interno e cercare di definire quello che siamo e di seguire i nostri valori passo per passo in base a quello che accade. Grazie. 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 Grazie.